Un saluto agli amici del Cornet Theatre di Londra. Sono molto contento che possiate vedere questo film documentario sul mio lavoro dedicato a questo grande grandissimo attore francese Louis Joubet e spero proprio di poter essere in futuro ospite del vostro teatro con un mio spettacolo e poterci incontrare dal vivo, come accade normalmente al teatro. A presto, grazie. Ci sono quegli attori che si fanno precedere dal personaggio, loro arrivano dopo un po' o quelli che arrivano prima loro e poi un personaggio se arriva arriva, invece noi dobbiamo arrivare insieme. Questa è la ragione per cui stiamo approfondendo questo tavolino, perché queste cose non le proviamo, non le capiamo se ci mettiamo subito in piedi a fare i buffoni. Il camminare, che è un gesto, deve accompagnare il testo. Cioè tu quando cammini sei nel testo, sei nel personaggio. un po' camminare. Ma vado a fare un laboratorio con uno sul Monte Amiata, sti cazzi, benissimo. E poi... Io ancora trovo dell'incredibile quello che ci sta succedendo in realtà. La spiegazione che io ti ho dato sull'armonia che c'è tra le relazioni. La spiegazione... La spiegazione che io ho dato sull'armonia che c'è tra le relazioni. No, scusate. Io lo devo rifare. No, scusate. Grazie a tutti. Grazie a tutti.